La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra essere più forte che mai, e la coppia sta attualmente trascorrendo qualche giorno di relax a Trento, immergendosi nell'atmosfera verde di una delle città più incantevoli d'Italia. Insieme dal 2017, i due hanno condiviso numerosi momenti felici senza mai allontanarsi l'uno dall'altro. Recentemente, Ignazio Moser ha smentito voci di crisi nella loro relazione, confermando che pianifica di sposare la sorella di Belen l'anno prossimo. Tuttavia, nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez ha condiviso con i suoi seguaci su Instagram una situazione meno positiva legata al suo stato di salute. In un video pubblicato nelle sue Instagram Stories, ha condiviso i dettagli della sua condizione attuale e le circostanze che hanno portato a un momentaneo disagio. Le parole di Cecilia Rodriguez hanno espresso chiaramente il suo malessere, non mi sento al massimo, ha dichiarato, ho preso un po' di freddo, quindi ho preferito sottopormi al test Covid per sicurezza. È successo mentre indossavo quel bellissimo vestito l'altro giorno. Perché? Durante la cena, ero seduta vicino a una stufa a fungo e, fiduciosa, ho tolto il cappotto. Beh, ho voluto fare la furba, ma questo mi è costato caro. La sorella di Belen ha poi continuato a spiegare la situazione, voglio sottolineare che il ristorante in cui ho deciso di togliere il cappotto, nonostante fosse dotato di stufe a fungo, era all'aperto. Sono cose che possono succedere, ma ho imparato la lezione. Non mi toglierò mai più il cappotto in circostanze simili. Non farò più la furba nella mia vita. Sono il tipo di persona che, ogni volta che vado al ristorante, non si alza nemmeno per andare in bagno, per evitare di cadere o inciampare. Quella sera, sono rimasta seduta tutto il tempo, e non ho avvertito il freddo grazie alla stufa dietro di me. Ed ora eccomi qui.